Buongiorno a tutti, buona domenica, benvenuti in questo nuovo video. Prima di proseguire con altri video successivi per quanto riguarda il tema del rapimento della Chiesa, questa mattina, quest'oggi avevo pensato di condividere con voi un argomento molto importante per quanto riguarda la fede e la dottrina cristiana, visto che ci troviamo in un giorno in cui il mondo decide di festeggiare la Pasqua. Io in questo video vorrei parlare di un qualcosa che è già stato affrontato anche più di una volta nei vari video presenti su questo canale, però ritengo opportuno, soprattutto per i nuovi iscritti, parlare del mistero dell'incarnazione della parola, del verbo di Dio, del Logos. Allora, per dare una base scritturale a quello di cui stiamo parlando, vogliamo leggere il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, i versetti 1 e 14. Questa è una scrittura, sono dei versetti abbastanza conosciuti. Nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi noi sappiamo dalla Bibbia, attraverso questo versetto, questo passo del Vangelo di Giovanni, che nel principio era la parola era, il verbo c'era, il Logos esisteva. Attenzione perché non ci dice che la parola fu creata, ci dice nel principio era, cioè esisteva. Se la parola fosse creata, l'apostolo Giovanni avrebbe potuto benissimo scrivere in principio fu creata la parola, come ad esempio in Genesi 1, 1 è scritto nel principio Dio creò i cieli e la terra, se la parola fosse creata. Invece no, qui la Bibbia ci dice che nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi abbiamo la parola, il verbo divino, distinto da Dio, il Padre, ma viene definita Dio anche lei. Il versetto 14 ci dice E la parola, questo Logos, questo verbo divino, che era Dio, è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Quindi, qui la scrittura ci dice che a un certo punto, a un certo momento, la parola è diventata carne. La parola, che era Dio, è diventata carne. Quindi, che succede? Succede che questa parola, questo Logos, questo verbo divino, entra nella storia. Entra nello spazio, entra nel tempo. Dall'eternità, entra nello spazio e nel tempo, e viene ad abitare sulla Terra, incarnandosi nella persona di Gesù Cristo. Perché è di questo che stiamo parlando. Quindi, come preesistente Logos, o verbo, o parola divina, esisteva dall'eternità, ed era Dio. Come uomo, invece, Gesù Cristo ha un inizio. E ha un inizio dalla nascita, dal grembo di Maria, della Vergine Maria. Quindi, la parola, che esisteva dall'eternità, si incarna, si fa carne. Ed è interessante che la scrittura qui ci dice che la parola si è fatta carne. Quindi, noi vediamo che quando questo verbo divino si è incarnato nella persona di Gesù Cristo, qui ci dice che lo ha fatto, si è fatta carne. Quindi, non c'è nessuna costrizione da parte di Dio nel far sì che il suo verbo, il suo Logos, si incarni. Ma la parola si è fatta carne. in modo volontario, in modo totalmente autonomo, ma sempre, diciamo, nella comunione con Dio, il Padre. E qui ci dice il versetto 14 che abbiamo letto noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria, come di un unigenito dal Padre. e qui l'Apostolo Giovanni utilizza la parola greca che noi traduciamo unigenito monogenes e ben si può applicare al verbo che poi si è incarnato. Perché? Perché unigenito, in questo caso, sta per unico nel suo genere. unico generato unico a procedere dalla stessa sostanza del Padre. E quindi Dio è Gli stesso uguale al Padre. Cosa che non si può dire né delle creature angeliche che sono appunto gli angeli sono appunto creature né tantomeno degli uomini. Nessun angelo e tantomeno nessun essere umano si può dire che sia stato generato direttamente e direttamente procedente e proceduto dalla stessa sostanza del Padre. Quindi solamente del verbo che si è incarnato nella persona di Gesù Cristo possiamo dire monogenes unigenito cioè unico generato dalla sostanza del Padre. E quindi siccome ciò che procede da Dio dalla sua sostanza è uguale a Lui nella sua essenza ben si può dire e ben potè scrivere l'Apostolo Giovanni nel versetto 1 nel prologo del suo Vangelo la parola era presso Dio quindi persona distinta da Dio Padre ma nello stesso tempo potè dire la parola era Dio. E non un Dio come traduce la traduzione del Nuovo Mondo ma qui c'è tutto un discorso di regole grammaticali greche che non è il mio obiettivo trattare in questo video se Dio vuole ci farò poi un video a parte sul prologo del Vangelo di Giovanni ma non ora un'altra scrittura che ci parla dell'incarnazione del Verbo Divino quindi dell'incarnazione di Dio nella persona di Gesù Cristo è Filippesi capitolo 2 i versetti da 5 a 8 questo è uno dei più dei massimi esempi dei più sublimi esempi di cristologia paolina cioè dell'apostolo Paolo che poi diciamo è un concetto che ribadirà anche nella lettera ai Colossesi al capitolo 1 i versetti da 15 a 17 parlando appunto del figlio di Dio quando dice egli è l'immagine del Dio invisibile in lei sono state create tutte le cose eccetera eccetera dicevamo Filippesi capitolo 2 versetti da 5 a 8 qui è scritto abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente ma svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce quindi vediamo in questa scrittura ci sono diverse cose su cui riflettere ma la più importante sulla quale ci vogliamo soffermare un attimo e che è nel tema dell'argomento di questo video è il versetto 6 nel versetto 6 l'apostolo Paolo dice che la persona di Gesù Cristo prima di diventare tale quando era nella sua gloria celeste esisteva nella forma di Dio esisteva nella forma di Dio per esempio lo stesso passo quello di Filippesi 2.6 vi voglio un attimino menzionare come viene reso anche in altre versioni bibliche questa ad esempio da dove ho letto è la nuova riveduta del 2006 la cei lo stesso versetto lo rende il quale pur essendo di natura divina non considerò tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio oppure la Diodati il quale essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio oppure la Ricciotti il quale sussistendo in natura di Dio non considerò questa sua uguaglianza con Dio come una rapina oppure la Tintori il quale esistendo nella forma di Dio non considerò questa sua uguaglianza con Dio come una rapina la Martini il quale essendo nella forma di Dio non credette che fosse una rapina quel suo essere uguale a Dio quindi vedete che queste traduzioni sono abbastanza concordi e unanimi nel rendere questo versetto in un modo estremamente somigliante simile talvolta anche uguale a quello che abbiamo appena letto quindi qui l'Apostolo Paolo ci dice che Gesù Cristo nella sua esistenza quale logos divino quale verbo era nella forma di Dio e qui viene utilizzato il verbo il termine greco le parole greche morfe teou cioè forma di Dio dove per forma la parola greca che usa l'Apostolo Paolo letteralmente viene tradotta con forma sostanza essenziale aspetto essenza quindi qui la scrittura ci sta dicendo che il figlio di Dio prima di incarnarsi quando esisteva come verbo come logos divino era essenzialmente nella sostanza e nell'essenza nella forma e nell'aspetto Dio morfe teou quindi era Dio e questo coincide e ben si si può correlare con la scrittura che abbiamo letto prima quella di Giovanni capitolo 1 il versetto 1 e l'Apostolo Paolo qui fa un contrasto ci dice che Cristo nella sua preesistenza quale nella sua gloria celeste era nella forma di Dio ma quando si incarna prende la forma di serbo e fu effettivamente serbo infatti Gesù quando è stato uomo sulla terra è stato serbo tant'è che in Matteo capitolo 20 versetto 28 lui potè dire il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per molti quindi la forma di serbo che l'apostolo Paolo attribuisce a Cristo in realtà faceva di lui veramente un servo perché infatti Gesù è stato servitore in primis di suo padre di Dio padre sulla terra e poi anche degli uomini quindi come per forma di servo si intende che lui è stato effettivamente servo sulla terra per forma di Dio parallelamente dobbiamo concludere che Egli era veramente Dio nella sua gloria celeste come verbo come logos divino presso il padre però qui la scrittura ci parla di un'umiliazione di una svestizione volontaria da parte del verbo della parola della sua gloria celeste perché dice che questa sua questo suo essere nella forma di Dio non gli fece considerare la sua ugualianza con Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente qualcosa da ritenere a scopo da trattenere a tutti i costi infatti qui l'apostolo Paolo utilizza il termine greco quando dice aggrapparsi gelosamente arpagmos che in greco significa rapina appropriazione a tutti i costi di un qualcosa quindi questo significa che Gesù prima di incarnarsi appunto nella persona di Gesù Cristo non ritenne questa sua ugualianza con Dio Padre qualcosa a cui aggrapparsi a tutti i costi qualcosa da ritenere per sé ma dice qui svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce quindi il verbo divino che era Dio si spoglia volontariamente in accordo con la volontà di Dio Padre si spoglia della sua divinità si spoglia di questa sua gloria si sveste di questa sua divinità annichilisce se stesso si umilia e viene sulla terra per essere ubbidiente fino alla morte di croce ed è in questo stato di umiliazione di servitù e di svestizione di gloria divina che il figlio di Dio fu fatto perfino di poco inferiore agli angeli infatti noi leggiamo in ebrei capitolo 2 il versetto 9 queste seguenti parole però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli cioè Gesù coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti quindi se il figlio di Dio sulla terra è stato fatto nel suo stato di umiliazione da uomo è stato fatto perfino inferiore agli angeli è chiaro che in quello stato era in uno stato di subordinazione tanto più nei confronti di Dio padre tant'è che noi in Luca capitolo 22 il versetto 43 leggiamo che nel nel Gezzemani quando Gesù la notte che poi fu arrestato pregò il padre di allontanare da lui quel calice ebbene lì l'Evangelista Luca ci dice che venne un angelo a confortarlo a rafforzarlo sì perché in quello stato Gesù da uomo soffriva provava delle emozioni molto forti talmente forti che sempre l'Evangelista Luca ci dice che sudava come delle gocce di sangue talmente era intensa l'emozione la paura l'angoscia di quel momento quindi era un uomo e ha avuto perfino bisogno di un angelo Dio il padre gli manda un angelo per rafforzarlo e quindi non stupisce che in quello stato pregasse il padre non stupisce che in quello stato è stato ubbidiente al padre portando a termine la missione affidata gli dal padre non stupisce e non deve stupire che in quello stato di umiliazione Gesù pote dire il padre è maggiore di me è più grande di me ma vogliamo ricordare che la parola greca per maggiore o grande che noi lo traduciamo così viene utilizzata dall'apostolo Giovanni nel riportare quelle parole di Gesù la parola greca meizon che significa una differenza di ruolo di posizione di stato ma non una differenza qualitativa quindi Gesù in quel momento pote dire il padre è più grande di me perché c'era una subordinazione di ruolo una subordinazione abbiamo detto volontaria da parte del verbo che si è fatto carne quindi certo che il padre era più grande di lui in quel momento assolutamente sì ma non si parla di una differenza qualitativa di natura ma di una differenza appunto di posizione di ruolo e non stupisce che in quello stato Dio padre è anche il Dio di Gesù Cristo perché questo è perché questo adempie tra le varie cose adempie anche una profezia messianica una profezia che noi troviamo nel Salmo 22 i versetti 9 e 10 qui il salmista Davide profetizzando per ispirazione divina del Messia scrive sì tu mi hai tratto dal grembo materno mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre quindi il Gesù uomo il Gesù carne il Gesù essere umano vero uomo ha avuto un inizio è stato partorito lo dice qui tu mi hai tratto dal grembo materno mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre è stato allattato il versetto 10 a te fui affidato fin dalla mia nascita tu sei il mio Dio da quando dal grembo di mia madre fin dal grembo di mia madre quindi Dio padre è anche il Dio dell'uomo Gesù Cristo certamente e non stupisce appunto che in alcuni passi della Bibbia del Nuovo Testamento e non solo nei Vangeli noi troviamo che Gesù definisce Dio padre anche il suo Dio certamente questo stato di umanità da parte di Gesù permarrà fino alla fine del millennio non ci dimentichiamo che Gesù deve tornare sulla terra assieme alla sua chiesa deve regnare nel millennio e regnerà sempre da uomo glorificato è chiaro no? questo e sempre in questo stato di volontaria umiliazione il figlio di Dio è stato sottoposto a prove a tentazioni e questo lo troviamo scritto nell'ultima scrittura che prendiamo per questo video ebrei capitolo 4 il versetto 15 ebrei capitolo 4 il verso 15 qui è scritto infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato certo perché essendo che Gesù Cristo è vero Dio è vero uomo ma anche vero Dio è stato tentato come uomo ma non ha ceduto alla tentazione perché Dio non può essere tentato è stato tentato nella sua forma umana certamente ha sofferto dice qui è stato è stato tentato come noi in ogni cosa ecco perché qui lo scrittore della lettera agli ebrei ci dice che come sommo sacerdote nei cieli che intercede per noi non abbiamo uno qualsiasi abbiamo uno che è stato uomo come noi carne come noi essere umano come noi che ha sofferto come noi che è stato tentato come noi anche se senza peccato a differenza nostra quindi è importante capire bene il mistero dell'incarnazione è importante capire bene che la parola che esisteva eternamente e dall'eternità presso Dio il padre si è fatta carne ha dimorato su questa terra e come uomo ha avuto un inizio come uomo ha avuto un inizio ma non come Dio perché come Dio il verbo divino esiste dall'eternità benissimo vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti